Sono stati 1.700 gli utenti che hanno risposto al questionario promosso da Salerno Pulita, un campione più che rappresentativo che ha fatto emergere un quadro con luci ed ombre. Si salva il cosiddetto porta a porta che è gradito in prevalenza da chi ha risposto al questionario tra chi lo ritiene molto soddisfacente o soddisfacente si raggiunge la percentuale del 61,74% agli altri chiaramente non piace. Scontata quasi invece la critica alla raccolta del vetro il 58,37% la ritiene inadeguata e nelle risposte libere i salernitani spiegano anche il perché le campane sono poche ci sono strade importanti della città che ne sono del tutto sprovviste e tutto intorno non si procede allo spazzamento dei residui di vetro trasformando spesso in micro discariche le campane stesse. Positivo il giudizio sui centri di raccolta di fratte arechi funzionano bene per l'83,07% idem per il ritiro domiciliare degli ingombranti con un giudizio positivo del 73,15% ma tornando alle note dolenti dove arriva la bocciatura senza appello per salerno pulita è lo spazzamento delle strade solo il 23,20% da un giudizio positivo quasi 8 su 10 di chi ha risposto al questionario invece denuncia l'assenza di spazzini in molte strade anche per più giorni la scassa professionalità di danuni operatori che raccolgono solo le carte e lasciano cicche di sigarette del riccio e direzioni canine sui marciapiedi accusandoli tra l'altro di impegnarsi poco. Già a metà ottobre cioè prima della somministrazione del sondaggio commenta il responsabile l'ingegner ferraro di salerno pulita eravamo consapevoli che questa fosse la primaria criticità e non a caso abbiamo accorpato la responsabilità della raccolta dello spaziamento il nuovo corso che mi auguro sia proficuo quanto prima dovrebbe portare ad un più razionale utilizzo del personale e primi risultati grazie anche all'uso intensivo delle nuove spazzatrici si iniziano a intravedere tra qualche mese ci rivolgeremo di nuovo ai salernitani per verificare se ci sono stati miglioramente auspicati oltre allo spazzamento le critiche arrivano anche al servizio di risposta alle telefonate degli utenti per il resto i cittadini chiedono più cestini getta carte per strada raccoglitori diffusi sul territorio per gli oli esausti un'ultima annotazione riguarda i commenti di soddisfazione per il servizio di raccolta dedicato presso le abitazioni degli utenti in quarantena apprezzato anche per la disponibilità la puntualità degli appuntamenti concordati e la professionalità degli operatori di salerno pulita impegnati a fronteggiare l'emergenza covid sul fronte dei rifiuti 4 3 Украї 4 4 Grazie.